Ciao, sono Alessandro Perilli, fondatore di Aste Giudiziarie Strategy. Oggi voglio parlarti di un argomento molto importante se hai deciso di investire nelle Aste Giudiziarie nella parte immobiliare. Molto spesso durante le mie coaching con imprenditori mi capita di ascoltare persone che decidono di investire i propri soldi in territori sconosciuti. Oggi voglio darti un piccolo segreto. Il primo errore che non devi assolutamente fare è investire in zone che non conosci. Cioè voglio dire che non devi investire in territori nel quale tu non hai la capacità direttamente o indirettamente attraverso dei tuoi collaboratori di poter realmente sondare il mercato e andare lì a percepire con le tue sensazioni i tuoi pareri senza affidarti solo a delle agenzie immobiliari o a dei consulenti esterni che pensi che ti possano aiutare per quel tipo di operazione. Quindi evitare assolutamente di investire in territori da te sconosciuti. Questo ha portato poi alla lunga davvero tanti risultati a tutti gli imprenditori al quale ho fatto consulenza. E perché ti dico questo? Perché un conto è che se tu vuoi investire dei soldi su un determinato immobile nel quale non hai possibilità di andare su quel territorio e vivere in quel territorio o perlomeno capire esattamente come funzionano le dinamiche di quel territorio, qual è lo stato occupazionale delle persone, quali sono i canoni di affitto se vuoi metterlo in affitto, quali sono le possibilità, le percentuali rispetto al mercato di quella zona, le possibilità di rivendere quell'immobile se vuoi vendere quell'immobile. Quindi un conto è andare lì sul posto e parlare con il barista che si trova vicino, che ne so, all'immobile individuato da te che può darti sicuramente delle dritte rispetto alla zona, che tipo di zona è, che gente ci vive, qual è il ceto sociale, se è un ceto alto, un ceto medio, un ceto basso. Quindi riesci a fare un attimo una panoramica così di primo istante, una sorta di business plan mentale su quella che poi è la reale possibilità che tu hai, una volta che hai acquistato l'immobile o che hai deciso di acquistare l'immobile, di poi rivenderlo o metterlo in affitto. Quindi se hai la possibilità di poter andare più di una volta su quel posto, in quella zona, non solo nella città, ma in quella zona lì dove hai individuato l'immobile, dove hai individuato l'affare, allora va bene puoi assolutamente partecipare all'asta e ti auguro di vincerla. Però se non hai possibilità o se puoi solamente andarci una volta o due volte, ti sconsiglio di poter investire i tuoi soldi in questa tipologia di affare. Quello che dicono la maggior parte dei guru della finanza è assolutamente conoscere il campo di battaglia. Quindi conoscere esattamente il terreno che stai percorrendo. Perché questa è la prima parte iniziale dell'investimento, cioè se non fai bene questa parte, già una buona percentuale, un 20% almeno, delle probabilità che sia un buon investimento diventi un cattivo investimento. Quindi il mio consiglio è, lavora nelle aree che più ti sono pertinenti, dove conosci la tipologia del ceto sociale, dove conosci i valori di mercato, poi ti fai aiutare anche da agenti immobiliari, ti fai aiutare da persone che collaborano con te, vai tu lì direttamente sul posto e parli con la gente per cercare di capire e reperire le informazioni che più ti interessano. Una volta fatto questo ti assicuro che l'investimento a quel punto potrà essere vantaggioso, o perlomeno per la prima parte, perché poi dovrai fare tutto un business plan prima di poter realmente partecipare a un'asta giudiziaria e calcolare tutti gli altri step fondamentali e non solo questo, che è alla base di tutta la scala di step, quindi dovrai calcolarli tutti prima poi di poter partecipare all'asta giudiziaria. Se vuoi capire e imparare di più sulle strategie e metodi per poter diventare un investitore più scaltro, un investitore più astuto, avere una competitività maggiore rispetto a chi come te ha un'azienda e vuole farla crescere più velocemente ma non ha abbastanza liquidità e vuole utilizzare questa opportunità delle aste, oppure se sei una persona che vuole imparare per diventare un consulente e aiutare altra gente per creare la propria professione e per raggiungere la propria libertà finanziaria, allora iscriviti qui al link, entra nel nostro gruppo dove settimanalmente ci occupiamo di trattare tutti questi temi attraverso le live contenuti di valore e sarai affiancato da persone che come te hanno gli stessi obiettivi con le aste giudiziarie. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!